E' ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita di Torino, la bimba di 5 anni, scivolata ieri pomeriggio nelle acque del Torrente Strona, nel territorio di Campello Monti, nel comune di Valstrona. Una caduta che le ha procurato contusioni e fratture, valutate inizialmente con un codice rosso e poi fortunatamente trasformato in giallo. La piccola, residente a Torino, si trovava in vacanza con la famiglia nel Verbano Cusiossola. Il caldo di queste ore ha consigliato alla famigliola di avventurarsi lungo i sentieri cusiani. Durante l'escursione si è verificata la caduta. Un grande spavento per i genitori sono stati gli stessi familiari ad allertare i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'eliambulanza. Simultanemente si è messa in moto da terra una squadra del soccorso alpino civile per un supporto logistico. È stato infatti il personale a bordo dell'eli soccorso a raggiungere la bimba per i primi soccorsi e ad assisterla durante il trasferimento a Torino. La notizia dell'incidente mercoledì sera era sulla bocca di tutto il paese. Oggi, appreso il quadro clinico meno grave di quanto si potesse ipotizzare, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.